Il federalismo fiscale vuol dire rilanciare il federalismo che per noi è una delle battaglie più importanti, il federalismo fiscale perché la tassazione è diventata insostenibile, quindi una delle grandi battaglie della Lega per il futuro sarà la flag tax, quindi il 15% e il federalismo fiscale, quindi siamo qua anche per questo, poi tutti i grandi temi che verranno rilanciati in questa bellissima giornata, tra l'altro siamo stati fortunati perché sta uscendo il sole dopo una grande pioggia.